Intesa sul presidente, il nome di Sergio Mattarella mette d'accordo e sblocca lo stallo. Nel pomeriggio i capigruppo dei partiti salgono al Quirinale per chiedere al capo dello Stato la sua disponibilità a un bis e lui risponde avevo altri piani ma se serve ci sono. In corso l'ottava votazione dopo sette fumate nere potrebbe essere quella decisiva stasera il risultato. Coronavirus, l'Istituto Superiore di Sanità conferma i numeri in calo, in arrivo le nuove regole per la scuola, niente dad per i vaccinati e autosorveglianza al posto della quarantena per chi entra in contatto con un positivo l'80% degli studenti e già in presenza garantisce il ministro. La pandemia non sia un alibi per trascurare la giustizia sul lavoro, così Papa Francesco all'udienza con gli operatori del cuoio il Covid non diventi il pretesto per giustificare omissioni nella sicurezza sul lavoro e l'attenzione alla responsabilità sociale ed ecologica fondamentale, esorta il Papa, far incontrare la saggezza degli anziani e l'entusiasmo dei giovani. Caro Energia, anche i ristoratori travolti dagli aumenti raddoppiate le bollette della luce, c'è chi paga oltre 6.000 euro al mese, nel Tg le loro voci, stiamo cercando di non aumentare i listini dei menù, dicono, per non rivalerci sui clienti, ma senza aiuti, per ora, siamo costretti a far saltare gli affitti e tutti gli altri pagamenti. Tutto pronto per le Olimpiadi, le squadre in arrivo a Pechino per i giochi, il primo slalom degli atleti è però schivare i casi positivi in aumento nel paese che ospita l'edizione invernale. Venerdì prossimo la cerimonia inaugurale, 118 gli atleti italiani, Michela Moioli, la portabandiera azzurra, sostituirà Sofia Goggia dopo la brutta caduta sulla neve. Buonasera a tutti voi, bentrovati al Tg 2000 in apertura, dunque l'elezione del Capo dello Stato. Avevo altri piani, ma se serve, ci sono. Ha risposto così Sergio Mattarella alla richiesta dei capigruppo parlamentari e dei rappresentanti delle regioni che nel pomeriggio sono andati a chiedergli la disponibilità per un bis. E dopo sette fumate nere in corso, l'ottava votazione, che potrebbe essere dunque quella buona. In diretta allora da Montecitorio, Augusto Cantelmi, a te. Eccoci, per sera Nicola, buonasera a tutti. Innanzitutto si respira un clima di euforia in transatlantico, dopo quello che è accaduto nei giorni scorsi, il pericolo scampato, le sette votazioni andate a vuoto tra veti incrociati e bocciature eccellenti. Oggi il clima era decisamente diverso. Quello delle grandi occasioni si continua a votare, ci troviamo alla lettera L della prima chiama dei deputati. Dopo ci saranno i delegati regionali, poi la seconda chiama. Quindi lo spoglio, siamo riusciti un po' a fare dei calcoli. Il famoso applauso, quello che arriva quando si raggiunge il quorum dei 505 voti, dovrebbe arrivare intorno dalle 20 alle 20 e 30. Allora sapremo, ma come ci siamo arrivati al Mattarella Bis? Ce lo racconta Donatello Vaccarelli. All'improvviso stamattina il Mattarella Bis è apparsa l'unica soluzione praticabile in questo Parlamento. Parlamento che nel corso degli scrutini, sin qui celebrati, aveva tributato crescenti consensi a Mattarella, fino ad arrivare alle 387 schede del primo voto di oggi. Tutto questo mentre i leader faticavano maledettamente a trovare un accordo. Leader che quindi non hanno potuto far altro che prendere atto dell'onda montante, di questo movimento dal basso dei grandi elettori. E così, uno dopo l'altro, stamattina hanno aderito all'ipotesi del Mattarella Bis. Con l'eccezione di Giorgia Meloni. Meloni che non a caso è l'unica fuori dalla maggioranza di governo. L'impasse sull'elezione si stava infatti pericolosamente avvitando in una crisi di maggioranza, rischiando di travolgere il governo in un frangente interno internazionale così delicato. Quindi è sceso in campo una sorta di grande elettore numero 1010. All'attuale capo dello Stato, la richiesta di accettare un secondo mandato per il bene del Paese è arrivata da chi, a sua volta, aveva risposto un anno fa a una drammatica chiamata di Mattarella. Il Premier Mario Draghi, che così ha smesso i panni di Quirinabile. È opportuno che il Presidente della Repubblica resti al Quirinale per il bene e la stabilità del Paese, avrebbe ribadito Draghi ai leader politici. E i leader della maggioranza di governo che lo sostiene hanno raggiunto un'intesa su questo, facendo poi a gara nell'intestarsi la svolta. Ma a chiudere il cerchio sono stati i Draghi e i cosiddetti peones del Parlamento, che in realtà questa volta hanno rovesciato le parti, dando loro la linea ai leader. Non a caso sono stati i capigruppo parlamentari a salire oggi al Quirinale, insieme a tutti i Presidenti di Regione, a rappresentare un intero Paese. A quel Paese Mattarella ha risposto, se serve ci sono. Eccoci, quindi la corsa al colle si è intrecciata con la tenuta del governo e questo ha aperto molte delle difficoltà che tuttora restano. Infatti sia Salvini e soprattutto Giorgetti, che sarebbe in braccio adesso della Lega, ma anche molto vicino a Draghi, che ha pensato anche alle dimissioni, ha chiesto e ottenuto con il Presidente del Consiglio un incontro per lunedì prossimo. l'azione di governo dice che deve cambiare passo. Al di là di questo, comunque, da tutti i leader, Peloni a parte, grande soddisfazione per aver raggiunto il Mattarella bis. Ma andiamo a vedere e andiamo soprattutto a sentire le loro reazioni e poi la linea allo studio. È stata una decisione importante, positiva. Io sono molto contento, però ripeto, come ho sempre detto in queste ore, non dobbiamo scambiare questa contentezza per un qualcosa semplicemente di superficiale, perché quello che è successo denota un blocco della politica. Ci sono due nomi eccellenti, che sono il nome di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, che oggi sarà confermato, e il nome di Mario Draghi, che rimane a Palazzo Figi, quindi per la solidità del Paese è una soluzione ottima. Abbiamo felicemente preso atto che l'opzione che abbiamo sempre tenuto sul tavolo, noi come Movimento, non eravamo i soli, questa opzione è a questo punto, si è trovato un'ampia condivisione. Fratelli d'Italia, non voterà la riconferma del Presidente uscente Sergio Mattarella, per diverse ragioni, la prima è che credo sia sotto gli occhi di tutti che siamo di fronte a un'anomalia. Mi pare che è una scelta di altissimo profilo, garante della stabilità, non è stato trovato in questi giorni un accordo che permettesse ad altre personalità di fare il Capo dello Stato. Diamo il sacrificio al Presidente Mattarella di continuare a rappresentarci, poi ho visto che nelle ore a seguire la mia proposta è diventata la proposta di tanti, io penso che i capigruppo oggi daranno concretezza a questo, oggi pomeriggio votiamo e sono contento di aver contribuito nel mio piccolo a chiudere questa partita. Dunque il Presidente Mattarella si è reso disponibile, prendo atto della situazione, ha spiegato. Andiamo allora in diretta dal Quirinale, dove c'è per noi Donatello Vaccarelli per tutte le ultime novità. Ti ascoltiamo. Buonasera Nicola, dunque il momento ci risulta che il Presidente Mattarella non è nel Palazzo del Quirinale, non sappiamo se seguirà le operazioni di spoglio da qui o da un altro posto, con ogni probabilità lo farà in compagnia dei figli Laura e Bernardo, ma dobbiamo dire che qui il Palazzo del Quirinale è tornato ad animarsi sin dalla prima mattina con i funzionari che sono accorsi, così come i consiglieri del Presidente. Si dice spesso con un'espressione che a qualcuno sembra un po' retorica che il Quirinale è la casa degli italiani, beh dobbiamo dire che oggi pomeriggio è sembrato davvero così quando abbiamo seguito i capigruppo delle forze parlamentari e soprattutto i Presidenti di Regione che sono venuti qui a chiedere a Mattarella la disponibilità al BIS e si è avuta questa immagine plastica vedendo i Presidenti di Regione schierati qui nella piazza del Quirinale proprio del territorio, del Paese che si rivolgeva al suo Presidente. Al Quirinale per ora è tutto, linea allo studio. Così l'elezione presidenziale che naturalmente continueremo a seguire ed è Giuliano Amato, il nuovo Presidente della Corte Costituzionale, è stato eletto all'unanimità torinese, 83 anni, professore emerito di diritto pubblico comparato, più volte ministro, è stato in due occasioni Presidente del Consiglio. Questa mattina poi al Quirinale ha prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica, Mattarella, il Giudice della Corte Costituzionale, Filippo Patroni Griffi. Capitolo Covid, 137 mila i nuovi positivi di oggi e 377 le vittime. Il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità conferma dunque la tendenza dei numeri in discesa, la fascia di età fino ai 18 anni, quella più colpita, 27 volte più alto, il rischio di finire in intensiva invece per chi non è vaccinato. Barbara Masulli. I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan positivi al test del nuovo coronavirus sono tuttora in terapia intensiva. Era il 29 gennaio del 2020, il Covid non aveva ancora un nome e il virus era sbarcato in Italia attraverso una coppia di turisti cinesi. Rimasero due mesi ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma e l'Italia scoprì così di essere finita nel vortice di una pandemia mondiale. I medici con le tute anticontagio e i negozi chiusi, le strade vuote, il lockdown, la fila ai supermercati, il divieto di stare vicino, le bare accatastate e l'addio improvviso alle migliaia di persone vittime del virus. Sono trascorsi due anni precisi dal primo caso di Covid registrato in Italia e oggi finalmente si vede una luce in fondo al tunnel. Il Piemonte registra più guariti che contagiati e il bollettino settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità parla di un'incidenza in diminuzione come anche la trasmissibilità e la pressione sugli ospedali. Il merito è dei vaccini, ripetono gli esperti, il tasso di ricoveri per i non immunizzati è 27 volte più alto rispetto a chi ha fatto anche il richiamo. All'appello mancano ancora 1.700.000 over 50 persone che dalla prossima settimana rischiano di incappare in una multa per la violazione dell'obbligo vaccinale e che da metà febbraio non potranno presentarsi neanche più sul luogo di lavoro. Servizio che era di Beatrice Bossi Menescuso Scuola e Covid il ministro Bianchi garantisce che più dell'80% degli studenti è in classe in presenza attesa per le nuove regole destinate a semplificare dunque la gestione della pandemia al posto della quarantena arriva l'autosorveglianza e niente dad per i vaccinati. Ora Barbara Masulli. La chiamano semplificazione e scatta fra 48 ore nelle scuole italiane che fino a oggi hanno combattuto con una gestione a dir poco complicata delle regole anti-Covid. Da lunedì lo studente è contatto di un positivo se vaccinato con seconda dose da meno di 120 giorni o se ha già ricevuto il booster potrà rientrare in aula senza tampone né certificato medico purché indossi una mascherina FFP2 per almeno 10 giorni. mascherina che stando al decreto pubblicato due giorni fa in gazzetta ufficiale sarà gratuita per alunni, docenti e tutto il personale scolastico in autosorveglianza grazie a un finanziamento di oltre 45 milioni di euro. Lo stesso decreto prevede che i bambini e i ragazzi della primaria possano accedere gratuitamente ai test antigenici rapidi non solo nelle aziende sanitarie territoriali ma anche nelle farmacie e nelle strutture convenzionate. Inoltre, visto il protrarsi dell'emergenza sanitaria il termine dell'iscrizione al nuovo anno è stato prorogato al 4 febbraio ma per le scuole dove al momento l'80% degli studenti è in presenza sono in arrivo ulteriori novità o semplificazioni per dirla come il ministro Bianchi ad esempio per chi dovrà farla la quarantena dovrebbe essere ridotta da 10 a 5 giorni anche alle elementari poi così come avviene già per gli istituti superiori la didattica a distanza scatterà da tre contagi in su infine a chi è stato colpito dal covid basterà per rientrare in classe un tampone negativo e non servirà più il certificato medico. All'estero maratona diplomatica per la crisi in Ucraina le tensioni sono altissime Mosca mostra i muscoli al confine continuando ad ammassare centinaia di soldati eppure gli Stati Uniti annunciano l'invio di altri militari la preoccupazione della popolazione sulla linea del fronte i servizi di Antonio Soviero e Maurizio Dischino nonostante l'appello del presidente ucraino Zelensky ad abbassare i toni a non creare panico per non far scappare gli investitori stranieri la tensione resta altissima gli Stati Uniti invieranno a breve truppe in Europa dell'est nei paesi della Nato ha annunciato il presidente Joe Biden il Pentagono ha messo 8500 soldati in stato di allerta stessa cosa farà la Francia si parla di diverse centinaia di soldati saranno mandati in Romania sempre nel quadro di un rafforzamento della presenza Nato in Europa orientale dall'altra parte della manica il premier britannico Boris Johnson annuncia che parlerà col presidente russo Vladimir Putin nei prossimi giorni gli chiederà di fare un passo indietro e di fermare l'escalation con l'Ucraina al pari dell'attenzione cresce la pressione non solo diplomatica sulla Russia mentre Kiev continua a ripetere che non vede una minaccia immediata di invasione da parte dei 130.000 soldati di Mosca schierati lungo il confine nord-orientale nessuno crede nella guerra i costi per tutti sarebbero enormi anzitutto per Russia ed Europa eppure il segretario della Nato Stoltenberg ribadisce siamo preparati al peggio e il cremelino invia in Bielorussia una batteria del sistema di difesa antiaereo Pansiresse ufficialmente per esercitazioni militari con lo scopo di rafforzare la frontiera sud-occidentale per evitare la penetrazione di gruppi armati e armi illegali ma chi ci crede? Tatiana mostra i buchi delle pallottole nella recinzione del suo giardino a Zaitsev un villaggio semiabbandonato dell'Ucraina sono i segni di una guerra iniziata nel 2014 e mai finita Zaitsev infatti si trova ad un chilometro dalla linea del fronte che divide le forze ucraine dai separatisti filorussi della regione del Donbass l'area al momento è oggetto di una prova muscolare tra Russia da una parte Ucraina Nato e Stati Uniti dall'altra le manovre militari russe a ridosso del Donbass fanno pensare ad un nuovo attacco di Mosca all'Ucraina perché non gradisce che Kiev entri nella Nato mentre la diplomazia cerca una via di uscita nel Donbass ancora si combatte dal 2014 tra esercito ucraino e ribelli filorussi delle autoproclamate repubbliche di Lugansk e Donetsk le tracce del conflitto sono ben visibili nel villaggio di Zaitsev chi non abita qui non capirà mai come vivere ogni giorno ogni minuto ogni secondo sotto attacco racconta Tatiana 74 anni filorussa siamo stanchi di vivere da 8 anni sotto i bombardamenti siamo tutti nelle mani di Dio moriamo ogni secondo aggiunge la donna che è come una sopravvissuta al fuoco incrociato non c'è quasi nessuno qui tutto è distrutto fa notare la sua amica Nelia 77 anni penso che nessuno voglia la guerra tutti sperano nella pace sono una persona anziana e non capisco la politica ma per me è chiaro chi potrà mai volere la guerra nessuno naturalmente forse Nelia pensa alle persone pure come lei la pandemia non sia un alibi per trascurare la giustizia sul lavoro così il Papa nell'udienza ai membri dell'Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio sentiamo Paolo Fucili Non cedete allo scoraggiamento valorizzate con creatività i vostri talenti fate incontrare saggezza degli anziani ed entusiasmo dei giovani Francesco incoraggia così oggi in udienza l'Associazione Italiana Chimici del Cuoio perché le difficoltà di molti lavoratori dice sono state aggravate ancora dalla pandemia ma la pandemia non può e non deve diventare un alibi per giustificare omissioni nella giustizia o nella sicurezza al contrario la crisi può essere affrontata come una opportunità per crescere insieme nella solidarietà e nella qualità del lavoro è l'associazione di quasi 500 chimici e tecnici della Concia produzione cioè del cuoio eccellenza italiana specie dei distretti di Toscana Campania Veneto Piemonte Lombardia ma dato anche l'impatto ambientale delle sostanze chimiche usate contribuite anche voi si raccomanda infine Francesco alla cura della casa comune per questa finalità è molto prezioso il fare associazione perché si mettono in comune le conoscenze le esperienze come pure gli aggiornamenti giuridici e tecnici e così ci si aiuta a crescere insieme in uno stile di responsabilità sociale ed ecologica e questo è molto importante Avanti sul tema del lavoro e del caro Bollette che mette in crisi anche i ristoratori con Francesco Durante allora spazio alle difficoltà con cui devono fare i conti dopo l'aumento del prezzo dell'energia vediamo È scioccante ultimamente è quasi non lo so indescrivibile che sensazione abbiamo provato quando ci siamo visti arrivare bollette che sono totalmente raddoppiate praticamente raddoppiate noi da circa 3.000 euro che pagavamo mensili siamo arrivati a pagare 6.100 euro solo per il mese di dicembre Costi di gestione sempre più alti dovuti ai rincari energetici stanno portando al collasso il mondo della ristorazione già duramente provato dalla lunga crisi innescata dalla pandemia negli ultimi mesi le spese per le bollette sono cresciute in modo vertiginoso purtroppo sono aumentate più del doppio non so fino a quando gliela faremo a sopportarlo perché sono due anni che siamo senza fare niente se ci fanno richiudere ci fanno un favore c'è pure quest'altra mazzata delle bollette e non solo perché c'è un aumento un po' di tutto anche nelle materie prime per far fronte ai vari rincari i ristoratori potrebbero aggiornare i listini dei menù a discapito dei clienti ma pensano anche ad altre strategie pur di lavorare credo che i clienti non è che siano meglio di noi comunque quelli che vengono già sono attenti ai prezzi quindi non so come sarebbe possibile far pagare ai clienti un rincaro così esagerato non è che abbiamo aumentato almeno io i prezzi li abbiamo abbassati diciamo che al momento stiamo studiando un qualcosa che non vada a unficiare molto sul prezzo quindi aumentare il prezzo del piatto singolo al tavolo però è molto difficile poterlo riuscire a fare dipenderà un po' da quello che è l'aumento effettivo che poi andremo a verificare sulle bollette l'emergenza migranti con la nave a Itamari che dopo una violenta tempesta che si è abbattuta sul Mediterraneo ha chiesto un porto sicuro per le 176 persone che si trovano a bordo fra cui anche 42 minori Elena Seno 34 persone sarebbero disperse su una barca a largo della Tunisia le autorità riferiscono di non avere informazioni speriamo siano ancora vive scrive sui social Alarm Phone la rete di attivisti che raccoglie le richieste di aiuto dal Mediterraneo e mentre è terminato ad Augusta allo sbarco di 439 migranti dalla Geo Barents attende ancora un porto sicuro l'Aita Mari dell'ONG spagnola Salvamento Marittimo Umanitario a bordo ci sono 176 persone tra loro 18 donne e 42 minori la notte è stata un inferno fa sapere l'equipaggio che ha avuto il permesso di ancorare al sud di Lampedusa per ripararsi dalla mareggiata hanno invece raggiunto l'isola 57 egiziani il loro barcone è stato intercettato a 5 miglia dalle coste italiane da una motovedetta della Guardia di Finanza il gruppo è stato poi condotto all'hotspot dell'isola tornato a riempirsi con gli ultimi sbarchi pochi giorni fa la morte di 7 bengalesi a causa del freddo nella traversata verso Lampedusa le salme saranno tumulate a Palma di Monte Chiaro il comune ha dato la disponibilità ad accogliere queste nuove vittime dell'ennesima tragedia in mare la costruzione del nuovo monastero rappresenta un segno di grande speranza così padre Benedetto Nivakov priore della comunità dei Benedettini di Norcia che dopo i terremoti del 2016 si è trasferita pochi chilometri fuori dal centro storico ci andiamo con Alessandra Camarca per Norcia il suo territorio e soprattutto per i suoi abitanti la costruzione di un nuovo monastero può rappresentare davvero un segnale di speranza la comunità religiosa guidata da padre Benedetto Nivakov dopo i terremoti del 2016 si è trasferita sulla collina di San Benedetto in Monte pochi chilometri fuori dal centro storico della città e lì sta dando vita ad un nuovo centro di spiritualità per accogliere i monaci benedettini del comune Umbro da un paio di anni sono iniziati i lavori di ricostruzione di un antico convento cappuccino che diventerà la casa ufficiale dei venti monagi oggi presenti in Val Nerina il priore aperto alle telecamere le porte del cantiere ma anche quelle della preghiera e del pranzo insieme all'intera comunità permettendo così di vivere un'intera giornata immersi nella fede e nella progettazione di un futuro che passerà inevitabilmente anche da un'altra ricostruzione quella della basilica del santo patrono d'Europa colpita dal sisma di cinque anni fa grazie a Dio e l'aiuto di tante persone negli ultimi due anni ci siamo riusciti a trasformare il rudere perché qui c'era sempre un monastero allora cappuccino ex monastero cappuccino costruito nel cinquecento con l'aiuto di Dio e tante persone ci siamo riusciti a riniziare e a ricostruirlo partendo sempre da una base sismicamente più forte tutto con isolatori sismici ma seguendo sempre il piano e disegno regionale del monastero L'elefantino fa progressi ottimi ha chiesto gli occhiali a un libro e quanto scrive su Twitter Anselma Dell'Olio moglie di Giuliano Ferrara ricoverato nel reparto di terapia intensiva coronarica dell'ospedale di Grosseto per un infarto Ferrara si era sentito male nella sua casa in Maremma giovedì sera i medici dell'ospedale Misericordia di Grosseto lo hanno sottoposto a un intervento di angioplastica coronarica Tutto pronto per le Olimpiadi Invernali di Pechino i giochi prenderanno il via venerdì prossimo con la cerimonia di apertura 118 gli atleti italiani cresce l'attesa ma anche le preoccupazioni per il Covid Federico Plotti A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi Invernali l'ombra del Covid spaventa ancora a Pechino e lì dove la pandemia è cominciata ormai più di due anni fa adesso non resta altro da fare che incrociare le dita e sperare che il coronavirus non mandi tutta l'aria ma sono decine gli atleti già bloccati per positività gli organizzatori assicurano che tutto è sotto controllo sono sicuri che i protocolli rigidissimi garantiranno l'incolumità dei partecipanti e lo spettacolo il villaggio olimpico come un bunker non si entra e non si esce se non per le gare tutti gli atleti saranno controllati ogni giorno sarà così anche per i bobbisti giamaicani che dopo 24 anni dall'ultima partecipazione e un film che è raccontato con l'impresa tornano alle Olimpiadi so che sono troppo ottimista ma noi puntiamo a entrare ancora di più nella storia provando a vincere una medaglia dice Ashley Watson dell'equipaggio di Bob A4 giamaicano sullo sfondo di questi giochi la situazione internazionale e i venti di guerra che spirano dall'Ucraina a un passo dall'invasione da parte di Mosca alla cerimonia di apertura del 4 febbraio ci sarà anche il presidente russo Putin ospite d'onore dell'omologo cinese Xi Jinping la questione ucraina non potrà essere ignorata anche se dalla Cina fanno sapere che ogni strumentalizzazione e qualsiasi provocazione esterna nel nome del pacifico svolgimento dei giochi verrà contrastata nonostante tutto venerdì prossimo si comincia con le prime gare sulla neve quella vera però ancora decisamente poca niente pubblico a bordo pista e nei palazzetti solo pochi fortunati invitati e sono tutti cinesi riprendiamo la linea per andare subito a Montecitorio con le ultime novità sull'elezione del presidente della Repubblica Augusto Cantelmi sei in diretta eccoci eccoci Nicola ci troviamo continua ovviamente il voto ci troviamo all'ultimo voto per quanto riguarda la lettera R si passa subito all'S è la prima chiama dei deputati poi ricordiamo che ci sono i delegati regionali sono 58 poi la seconda chiama ricordiamo che il famoso applauso quello che arriva quando si tocca il quorum dei 505 voti necessari dovrebbe arrivare intorno abbiamo fatto dei calcoli intorno alle 20 20 e 30 e solo allora sapremo se effettivamente tutto è andato come oramai tutti sperano da Montecitorio a Montecitorio e tutto la linea allo studio a voi grazie Cantelmi buon lavoro allora adesso prima vi lascio al meteo poi la Santa Messa vi ricordo la prossima edizione alle 20 e 30 col TG2000 per seguire proprio l'elezione al Quirinale grazie per l'attenzione e buona serata arrivederci